Beh! Allora il mondo, ma ti ho messo il burca perché ti hai paura del covid? No, allora, sotto il casco perché fa un freddo boia. Non ho paura del virus, anche se ultimamente siamo in metà in giro per il mondo il numero di vedove. Però, allora, visto che mi diverto quando faccio fatica, oggi mi e mi ledi, facciamo vedere i miei ledi, se no i busiari tese questo busiaro, facciamo un giretto qua, lungo Brenta, via del tabacco, così facciamo un poco di allenamento, scaldemmo le gambe, visto che la Graziella si è quasi pronta e presto sfreccerò su questo pianeta i tre e mezzo, quattro, forse cinque chilometri l'orario se sono in discesa. Quindi, un poco di pedalata non fa bene male e niente. Adesso mi metto in marcia perché mua, vuole andare in loa, e un saluto speciale al Vendicator Veritas che mi ha colto nella Veritas Caverna, al suo braccio destro Tex e per gli invidiosi e curiosi divanotauri eccetera eccetera. Perché te fai queste robe e mi dici? Perché fai queste robe? Perché invece di stare col culo al caldo, senta sul divan, col telefono in mano a sentire le notifiche del Whatsapp, del Facebook e altre puttanate varie, preferisco sentire e fare quello che mi ha insegnato qualcun altro, cioè sentire il sole addosso, sentire la pioggia sulla pelle, sentire il vento sulla faccia, vivere, sentire la vita reale, non quella virtuale. Ripeto, ognuno nella vita può fare che cazzo che vuole, però quando comincia a rompere i coglioni agli altri non va più bene, quindi per qualche disagiato umano anche un bel gne gne gne, oltre a tutti quelli elencati prima, e niente, in marcia, ognuno, mamma che freddo! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.